tra così tanti uomini, single. Hai pensato solo a mangiare? Ha pensato solo a mangiare? Vabbè, comincia. Ah, non lo so, io sono solamente un postino, ambasciutore non porta pena. Intanto, buon appetito. Guarda questo tovagliolo, guarda che bello, c'è la sua bocca sopra, fantastico, non buttarlo via, lo incorniciamo, lo mettiamo qua, tu come ti chiami? Fiorella, che numero hai? Fiorella è il numero 15, verde speranza, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Bene, bene, facciamo un altro messaggio, allora se abbiamo finito le lasagne al forno chiediamo alla regia che ci abbassino le luci, così vediamo se facciamo qualche balletto, perché io vorrei capire se questi uomini sono veramente così romantici da far parlare alle donne che sono in sala, perché è ok parlare, cenare, bere, messaggiare, però alla fine bisogna neanche un attimo concretizzare, insomma, come si suol dire. Un altro messaggio, numero 33 ragazzi, 33, chi è questa donna fortunata? Numero 33, 33, è qua, 33, gli anni di Cristo, ciao, come ti chiami? Giuliana, Giuliana, wow, che bel nome, da dove vieni? Da Verona, da Verona, e vai, tu cosa fai di bello della vita? Sono macchinista Labauli, macchinista Labauli, e vai!